buongiorno benvenuti a un'altra puntata di reveal director protagonista non un'attrice ma una persona che forse ha qualcosa da dire chissà alessandro lucente benvenuto arrivi al diet finalmente faccio il mio lavoro e quindi i ruoli si ribaltano magicamente iniziamo dalla prima domanda grazie grazie intanto di avermi invitato di essere qui ospite sono contento e niente vediamo che succede vediamo che succede allora ho una curiosità che mi preme come è nata l'idea di questo format eh cara Roberta hai quelle due tre ore a disposizione benvenuti ragazzi eccoci qui al sesto episodio di reveal director the show oggi abbiamo come ospite un'altra famosissima attrice no anche stavolta non abbiamo un'attrice perché non abbiamo un'attrice perché come artisti sappiamo che è importante e fondamentale non occuparsi soltanto di una materia che la recitazione bensì andare a scoprire conoscere quanti quanti più mestieri professionali e artistici ci possono essere ecco Roberta è giornalista e altra cosa interessante speaker di una nota emittente radiofonica romana romana romanissima romanissima quindi intanto benvenuta grazie alessandro piacere stare qui e quindi parlare da un'attrice visto da un format per attori ci sono come attori probabilmente adesso mentre parlerà andrete anche a riconoscere la voce perché la sentite la mattina dalle sei alle nove su dimensione suono roma partiamo un pochino agli esordi giornalista e speaker radiofonica intanto quali delle due vocazioni tu senti più tua allora devo dire entrambe perché poi io sono un po vulcanica come persona quindi una cosa sola non mi bastava e allora magari inizierò anche a fare l'attrice chissà vediamo vediamo no diciamo che il giornalismo è sempre stata la mia vocazione perché ho sempre amato scrivere sembra banale però parte da quello poi il il sogno del giornalismo ho sempre amato scrivere quindi l'ora di del tema era la mia preferita sicuramente a scuola e anche la curiosità che ho sempre avuto no mi ha portato poi versi 15 16 anni a dire ma perché no ma magari provo a fare la giornalista con tutte le difficoltà del caso perché poi comunque tutti mi diciamo non è semplice fare la giornalista ma ti pare ma un ambiente difficile io poi vengo da una famiglia dove lavorano quasi tutti in banca quindi proprio la famiglia del posto fisso per cui a casa far passare questo come attori come attrici penso che spesso e volentieri abbiamo sentito più e più volte insomma frasi del genere no sì 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 beh quindi per far passare il messaggio non non faccio il colloquio in bianca ma provo a fare la giornalista inizialmente era visto un po' con scetticismo a casa mia proprio devo dire la verità mi hanno sempre appoggiato quindi alla fine un po' perché mi sono lanciata un po' per cose che si sono incastrate nel modo giusto sono riuscita a farlo veramente come ufficio stampa inizialmente inizialmente sì i primi passi li ho mossi negli uffici stampa ecco io so che come attore un'altra cosa importante è l'ufficio stampa sicuramente perché è importante l'ufficio stampa per un attore per un'attrice beh sicuramente la la promozione e la presentazione di un artista può fare la differenza a volte secondo me non c'è il talento ovviamente parla parla da solo però saperlo anche spiegare e sapere andare a piazzare l'artista sul giornale giusto o ecco garantirgli una una comunicazione adeguata a volte può fare la differenza che lei fra poco sarà inizierà a sanremo sì inizia sanremo quest'anno per la prima volta lo seguirò da casa perché non si può andare lì e avrà dovrà fare tante interviste anche ai vari artisti fedez bungo saranno i primi che intervisterò e lì c'è il contatto con l'ufficio stampa giusto sì 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 è l'ufficio stampa esatto quindi quando ti arrivano questi artisti comunque tralasciando che ovviamente eduopo siete obbligati dovete fare queste interviste perché giusto no però qual è la cartella l'ufficio la cartella stampa che a te come giornalista ti permette di capire dare un valore aggiuntivo all'artista com'è che è strutturata allora per quanto riguarda parliamo di sanremo c'è una buona parte fatta di musica di questa comunicazione quindi magari ti mandano qualche brano ti mandano delle nozioni sui precedenti dischi su come quell'artista si è evoluto e quindi aiuta curiosirti si può incuriosirti ad approfondire meglio un personaggio piuttosto che un altro già quello sì e c'è un qualcuno di questi qua che hai avuto insomma adesso occasione di andare a intervistare un qualcuno che ti ha colpito particolarmente ad esempio mi ha colpito la storia di bugo che noi abbiamo imparato a conoscere per la fuga dal palco e per la lite con morgan ma in realtà bugo è un grande cantautore è un cantautore che è stato pioniere di un nuovo cantautorato italiano negli ultimi dieci anni e che però fino all'anno scorso finché non ha scappato dall'aristano nessuno conosceva e quindi un po per curiosità me lo sono andato a studiare ma ad esempio nel materiale che mi ha inviato l'ufficio stampa c'era una biografia di bugo dove parlava anche di una sua parte di vita che non conoscevo che mi ha incuriosito ad esempio bugo ha iniziato da giovane con una band che aveva fondato lui stesso ha suonato un paio di anni di anni con questa band dopodiché ha mollato la musica si era messo a lavorare in fabbrica faceva il metal meccanico praticamente e dopo un anno due ha iniziato a scrivere canzoni e si è rimesso a fare il cantautore quindi lì ci vedo molto di artista no cioè nel senso il provarci poi magari avere anche la crisi che ti fa dire no vabbè ma forse torno indietro e faccio altro mi metto a fare un lavoro normale esatto e poi invece questa grande passione questo fuoco che ti brucia dentro ti fa tornare a quello che è il tuo sogno diciamo c'è dietro anche una sorta di racconto sì beh raccontare un artista secondo me un'altra cosa fondamentale anche quella poi questo ti parlo da giornalista perché noi ovviamente siamo curiosi anche della vita del personaggio di cosa anche c'è dietro a una canzone o a un personaggio che si interpreta in un film e credo che gli artisti debbano essere questo nella comunicazione ripeto parlo da giornalista debbano essere generosi anche in quello cioè va bene comunicare la tua arte però aprire anche una finestra su quello che è il tuo passato e su come quest'arte sia sviluppata in te credo che sia importante a livello comunicativo e che vada ad incuriosire anche i non addetti ai lavori perché poi il problema della comunicazione artistica secondo me è quello che si rischia a volte di restare impigliati in quella quello che interessa solo gli addetti ai lavori no e invece secondo me si deve comunicare a tutti non solo attraverso una canzone o un personaggio che si porta in teatro o sul grande schermo ma si debba comunicare a 360 gradi sono d'accordissimo su questo aspetto anzi uno dei motivi per il quale anche ho deciso diciamo di raccontare con questo con questo format il mestiere dell'attore è proprio per far vedere che ci sono varie guide no come riesce a trovare come essere atto come fare questo come fare però più delle volte uno non sa dietro effettivamente che cosa c'è di difficile cosa significa anche effettivamente fare questo mestiere io quando ti ho parlato di rivi il director è stato mi ricordo mesi fa sì 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 qualche mese fa no siamo a febbraio ah già è vero no va beh perché io io conto io conto sempre no perché io era finito il primo lockdown io conto sempre dal settembre l'anno ah ecco quindi per me era per me era quest'anno nel senso no no dico però era da settembre sì 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 continuo a contare come si fa a scuola a settembre è il nuovo anno e quindi sì era settembre ottobre più o meno sì 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 e ancora non mi sembra che ancora volevo farlo ancora non ho iniziato no 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 e mi era piaciuta subito l'idea perché infatti te eri presente proprio che ti raccontavo questa questa cosa che mi serve serve proprio raccontare come dire il il gli ostacoli le difficoltà che ci sono dietro questo penso che rende a più umano l'artista b come come dici te apre comunque uno spiraglio una finestra per incuriosire anche i non addetti ai lavori cioè il ovvio che se tu da attore parli ad altri attori o a uno sceneggiatore o ad un regista usi un linguaggio e parli di determinate cose che a loro interessano il pubblico è un'altra cosa e quindi per arrivare al pubblico bisogna un attimino anche aprirsi e a volte adesso no perché poi a noi giornalisti ci ci trattano da sensazionalisti ma non è sensazionalismo e quindi appunto noi che cerchiamo sempre lo scoop o la notizia particolare ma la cerchiamo perché poi è quella che vuole sentire la gente e quindi il successo di un artista sta anche in questa generosità di aprirsi e farsi conoscere poi ovviamente la vita privata resta vita privata però raccontare qualcosa di sé che vada oltre un semplice personaggio che poi non è così semplice secondo me nella comunicazione aiuta molto in questo tuo mestiere da giornalista poi sei approdata appunto a fare la radio questo è un amore che nasce da ancora prima della mia vocazione giornalistica se vogliamo e che io ho realizzato solo dopo perché è andata esattamente ha detto dopo bravissimo dopo perché adesso sono calata nella parte della speaker vedi tu pensa immagina questa cosa qui io a sei anni cinque sei anni io poi questa questa cosa veramente l'ho realizzata dopo poi anche lì non ci facevo caso io mi sono ricordata poco tempo fa che io a cinque sei anni in macchina costringevo i miei genitori a spegnere la radio perché la radio dovevo farla io e facevo il programma dalla A alla Z cioè mi presentavo conducevo poi lanciavo la canzone cantavo anche la canzone perché la radio era aspetta quindi facevo woman show così in macchina per un periodo mio fratello poi mi zittiva e quindi io rubavo prima di uscire da casa il frontalino della radio di mia madre perché poi una volta in macchina mio fratello diceva mamma la radio e mamma cercava non c'era quindi a quel punto erano costretti ad ascoltare comunque me quindi ho sempre avuto questa esigenza di comunicare che tu nascondevi il frontalino così così in macchina il frontalino non si trovava io avevo la scusa per fare la capitola povero fratello e adesso tuo fratello ti sente la mattina e adesso lui mi ascolta la mattina io poi questa cosa della radio è ritornata qualche anno fa perché io mandavo delle note audio a una mia amica in macchina facendo la radio e quindi che ne so c'era Lady Gaga e poi facevo allora abbiamo appena ascoltato Lady Gaga sono le 22.50 sul raccordo anulare e la mia amica mi diceva tu devi fare la radio e io ho quasi 30 anni ma mi metto non si può che faccio la radio no no devi fare la radio devi fare la radio e mi ha costretto ad iscrivermi ad un corso di conduzione radiofonica che io ho fatto ed oggi ti dico per fortuna perché io poi lì ho capito ancora di più quanto io fossi innamorata di questo mezzo che sono delle cuffie e un microfono e da lì è iniziata la mia esperienza perché poi ho conosciuto dei ragazzi con cui poi abbiamo fatto un programma su una web radio ho iniziato così poi ho avuto per un anno la conduzione di un programma su Radio Italia anni 60 e poi a luglio sono sbarcata su Dimensione Sono Roma faccio l'inviata della sveglia dei gladiatori e quindi vado a fare la disturbatrice nel bar di Roma a intervistare le persone quindi sì è molto divertente e poi coniuga quella che sono io perché da inviata io faccio sia radio che anche un po' la giornalista perché io tutte le mattine non importa che umore abbia devo stare comunque sul pezzo e intervistare le persone al bar diciamo il buongiorno il mio buongiorno il mio buongiorno è così buongiorno gladiatori cioè che si chiama la sveglia dei gladiatori il programma e quindi i nostri ascoltatori sono i gladiatori ma sono gladiatori veri loro perché si sveglia cioè insomma il programma va in onda dalle 6 alle 9 la mattina quindi sono tutti i romani che si svegliano all'alba o comunque molto presto che alle 6, le 7, le 8 sono già in macchina o che si svegliano all'alba oppure che staccano dai centri agroalimentari insomma assolutamente ad esempio ci ascoltano tanti infermieri tante persone che lavorano di notte che quindi tornano e ci danno la buonanotte invece che il buongiorno ed è molto divertente è molto divertente proviamo a mettere il buon umore ai romani ci sono degli attori degli artisti ai quali tu sei particolarmente legata sì sì assolutamente sì beh ognuno di noi credo abbia un attore del cuore o un'attrice del cuore il mio è ovviamente romano molto romano ed è Carlo Verdone che ha accompagnato la mia infanzia perché questa è un'altra cosa che racconto perché è carina io ho visto pochissimi cartoni animati da bambina perché perché comunque mio fratello è più grande i cugini sono tutti più grandi di me quindi sono cresciuta un po' che ero già grande insomma da bambina ero già un po' più grande dell'età che avevo perché stavo con loro che erano tutti più grandi ma soprattutto perché io amavo amavo i film di Carlo Verdone per cui io invece che la carica dei 101 vedevo sette chili in sette giorni invece che biancaneve vedevo maledetto il giorno che ti ho incontrato e quindi è nato questo amore viscerale nei confronti di Carlo Verdone che ho avuto l'onore di intervistare un anno fa e ho avuto l'onore di raccontarvi questa cosa e ve l'ha lasciato contentissimo ma ero più contenta io ovviamente era la realizzazione di un sogno quando tu da giornalista intervisti quello che è il tuo mito è veramente la realizzazione di un sogno cosa è che ti piace scrivere di questi personaggi alla fine beh ovviamente qui parliamo di prove cinematografiche quindi sicuramente come hanno come sono riusciti a interpretare un personaggio e a fartelo restare attaccato no? perché poi secondo me la cosa più bella di un attore è quella cioè non solo raccontare il personaggio ma fartelo attaccare un po' addosso e tu quando hai finito di vedere quel film non solo pensi a quella storia ma ti senti un po' vicino a quel personaggio lì a me con i grandi attori e con i grandi insomma personaggi dei film che mi sono più piaciuti mi è capitato sempre questo se tu potessi tornare indietro che cosa andresti a dire a te stessa per arrivare dove sei ora cioè nel senso che consigli ti andresti a dare ok allora su dove voglio arrivare non lo so neanche io nel senso che non mi piace avere io non mi metto mai dei paletti nel lavoro professionalmente e non mi metto mai dei punti di arrivo perché secondo me ti tagliano poi le gambe ovvero quando poi tu pensi di essere arrivato a un certo punto il rischio più grande per chi fa il mio mestiere ma anche per un attore credo è quello di sedersi no? cioè ho fatto tanta fatica arrivo quello è il mio traguardo finale ci arrivo mi siedo e lì è l'inizio della fine secondo me siccome io sono una che ha sempre corso mi piace non mettere un finish ma continuare a correre fin quando ho le energie per farlo perché poi io ho molta energia cioè sono una persona piena di energia vulcanica quindi ultimamente siccome a volte mi sento un po' stanca dico ma quanto mi durerà l'energia piano piano mi abbandona secondo me mi abbandona però finché non mi abbandonerà l'energia e la passione per questo mestiere continuerò a camminare e vediamo dove mi porta mi piacerebbe anche fare qualcosa in televisione ad esempio quello quello sì e poi non farmi mancare mai la curiosità di scoprire sempre cose nuove ci sono personaggi che io ho intervistato più di una volta eppure quando l'intervisto l'intervisto continuano sempre a stupirmi perché poi c'è sempre qualcosa che ti incuriosisce quindi il bello del mio lavoro è che puoi continuamente conoscere storie e conoscere persone e questo è quello che mi fa andare avanti cioè mi sono sempre lanciata molto e buttandomi in più cose poi sono venute fuori possibilità e questo è importante cioè avere le possibilità è fondamentale perché tu quando hai davanti delle possibilità puoi scegliere ok e averne solo una è un conto averne 2, 3, 4, 5 è un altro conto ma tu quelle 2, 3, 4, 5 se ce le hai se ti lanci quindi io ti dico ad oggi sono contenta perché se mi guardo indietro mi rendo conto che mi sono lanciata molto anche prendendo dei belli scivoloni delle belle trambate le ho prese le ho prese anch'io sono incappata anche in situazioni dove poi a posteriori ho detto ma che non avevi capito che era un sola questa cosa un sola un sola però questa cosa mi ha permesso di avere quello che ho oggi quindi se dovessi darmi un consiglio sarebbe quello di lanciarmi ancora di più magari fino a schiantarmi prima o poi mi schianterò mi schianterò no però questo è un consiglio che mi ridarei e che è una cosa che ho sempre fatto sul resto devo dire la verità e sono contenta di questo non ho dal punto di vista professionale particolari gli impianti o rimorsi è andato è andato tutto bene come è andato e quindi sono contenta di questo ragazzi un messaggio un messaggio di positività ci vuole perfetto abbiamo finito abbiamo finito madonna che fatica tu sai che fatica perché no ma veramente non è semplice faccio un saluto finale e poi finiamo faccio un saluto finale non è semplice no no non è semplice beh insomma come avete capito abbiamo finito grazie intanto di aver partecipato a quest'ulteriore episodio di Reveal di Hector con Roberta Marchetti vi invito a seguirla sui social su Instagram che adesso apparirà magicamente qui sotto il suo profilo e seguiteci mettete ovviamente like ring the bell e condividete questo episodio ragazzi grazie grazie a te Alessandro in bocca al lupo a tutti e tanta merda merda ciao 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 ciao